Ma io dici Gigi... Stavate qui gli tirano il rosario eh? Stai attacca... Mamma appena dici il rosario ma vanno dal teatro paese Ah questa è quella pescata Eh, prega per noi No, Maria... prega per noi Mi facevo prega a mangiare Morella Molto male ma a me ne spiace Porca la miseria Sono quando muovi da via Ma come si parte a cucire? Ma mi fa a cucinare Ma non mi fa a cucinare Mi fa a cucinare Ma sempre ne sparemo Mi fa a cucinare Ah, qui... Pito, lascia chiusa la pacchina Il bianema Questa si fa il filmino Il bianema è un po' fricca Inizia No, quando mi fa a cucinare Grazie. 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 In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. e Mar eh. Rompi, Spirito e Spirito Santo. In veredica a Dio di Potenza, Padre, Spirito e Spirito Santo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi viene a visita e viva San Giovanni. San Giovanni, San Giovanni Battista. Chi viene a visita e viva San Giovanni. Grazie a tutti. Grazie a tutti quanti di iniziare bene con questo giorno, questi giorni di festa perché siano non solo lieti tra di noi ma con tutti i pellegrini, con tutti coloro che giuiscono in questo giorno di festa. Teniamo nel sorriso, teniamo nell'accoglienza di quello che possiamo. Ecco, questo gesto, questo modo costruisce il modo concreto con cui noi oggi, guardando a San Giovanni, vi diamo la testimonianza della nostra pelle. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.